Ciao ragazzi, oggi vediamo insieme quali sono i personaggi migliori e più popolari dell'ultima stagione dell'attacco dei giganti. Parliamo sia di una classifica realizzata da Fanimation, che è una piattaforma molto conosciuta a livello mondiale, e poi parliamo di una mia classifica personale di una tier list che ho realizzato con voi in live su Twitch. Iniziamo subito da questa classifica di Fanimation che è basata su quante visualizzazioni ci sono state sulle pagine relative ai personaggi di questa stagione. Quindi capiamo subito che più di migliori in questo caso parliamo appunto di popolarità. Al decimo posto troviamo Mikasa, che forse mi sarei aspettato anche più in alto, però se ci pensate è apparsa da poche puntate effettivamente in questa stagione, e quindi sarebbe stato comunque difficile inserirla più in alto non avendo fatto chissà cosa fino ad ora in questa nuova stagione. Al nono posto troviamo Pic, che è un personaggio che è stato molto apprezzato dalla community in generale e che anche io sinceramente reputo veramente molto molto simpatica. Nonostante non vi sia stata chissà quale caratterizzazione fino ad ora del personaggio all'interno della storia, sicuramente risulta essere una presenza positiva. All'ottavo posto troviamo Ymir Fritz, ed ecco questa posizione già è più strana, secondo me qua le persone sono semplicemente andate a vedere la pagina relativa a questo personaggio per capirne di più, perché effettivamente non è che sia proprio presente all'interno della stagione. Però comunque è molto curiosa da vedere già qua dentro. Vi ricordo che questa classifica è stata fatta in contemporanea più o meno con l'uscita dell'episodio 8 della quarta stagione, quindi più o meno a metà della serie. Quindi per chi sta vedendo questo video nei mesi successivi ovviamente la serie sarà sicuramente già completa, e avremo opinioni molto più larghe anche su alcuni personaggi che già sono qua dentro, ma di cui non sappiamo molto, comunque non sono stati chissà quanto approfonditi fino ad ora. Al settimo posto abbiamo Falco, e sono davvero contentissimo di vederlo all'interno di questa classifica. Infatti è un personaggio che reputo piuttosto maturo per la sua età, magari a differenza di Gabby, mi piace molto il suo carattere, mi piace il suo modo di vedere le cose, di comprendere la situazione, infatti si rende conto della somiglianza che vi è tra quello che hanno fatto loro e quello che hanno fatto gli Eldiani di Paradis. Per ora devo dire che mi sta piacendo veramente moltissimo e sono sicuro che avrà ancora una grande evoluzione all'interno della storia. Al sesto posto abbiamo il Gigante Martello, e beh, che dire, sicuramente molto molto figo, anche scoprire la sua identità segreta è stata una cosa molto interessante, c'è da dire che non mi piace molto il modo in cui lo studio mappa l'ha realizzato in CGI, però comunque è un titano piuttosto interessante. Al quinto posto abbiamo il Gigante Fondatore, quindi non parliamo di Eren nello specifico, ma proprio la figura del Gigante Fondatore, una cosa che probabilmente in tanti sono andato a cercare anche per aver maggior chiarimento su quello che stesse accadendo all'interno della storia. Al quarto posto abbiamo Zeke, che sinceramente è un personaggio che io odio particolarmente, almeno fino ad ora. Al terzo non poteva mancare il Capitano Levi barra Levi, sono contento di vederlo qua sopra, è sicuramente uno dei personaggi più amati in assoluto e quindi è anche ovvio vedere gente che appunto se lo va a cercare spesso, però sono contento perché comunque è un ottimo personaggio a prescindere. Al secondo posto abbiamo invece Eren Jaeger, un personaggio che come sapete è stato completamente stravolto e completamente cambiato all'interno di questa stagione e c'è ancora tantissimo da scoprire appunto sulla sua nuova personalità. In prima posizione abbiamo invece ovviamente Gabi, personaggio più amato in assoluto dell'attacco dei giganti. Ovviamente sto scherzando. Nella prima posizione non mi piace moltissimo, sinceramente abbiamo i nove titani, nove giganti messi insieme perché c'era una pagina sul sito chiamata così e in base al numero di visualizzazioni che c'è stato è arrivata come prima in assoluto, ci credo pure in realtà. Quindi questa è la classifica, vi dirò non mi è piaciuta tantissimo perché non mi piace proprio il metodo che hanno utilizzato per andare a selezionare le posizioni dei personaggi, mancano anche figure come Armin ad esempio e mi dispiace, però vabbè. Per quanto riguarda invece la mia tier list che ho realizzato con voi su Twitch, andrò a commentare solamente le prime posizioni per dirvi il motivo per cui ho inserito così in alto oppure un po' più in basso alcuni personaggi. In esse troviamo i miei personaggi preferiti della serie, a partire ovviamente da Eren. Eren è per me un protagonista perfetto, che nelle prime stagioni ricorda un po' lo stereotipo dell'eroe, che vuole in questo caso sterminare tutti i giganti per vendicarsi, una cosa abbastanza tipica nel panorama del battle shonen, ma che come abbiamo visto cambierà, o meglio deciderà di comportarsi in un modo molto più freddo e spietato per riuscire a ottenere la libertà. Un personaggio che è maturato moltissimo, in maniera anche molto atipica e imprevedibile, che bisogna ancora inquadrare per bene in questa nuova season, ma è già evidente la sua ottima presenza e il ruolo che ricopre quello di protagonista è assolutamente suo, se lo merita totalmente. Abbiamo poi Erwin, un personaggio che purtroppo non c'è più all'interno della serie, che però io ho sempre amato tantissimo. È sempre stato uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, infatti rappresenta quello che dovrebbe essere, secondo me, un vero soldato. Si è egoista, con un obiettivo abbastanza triste che non porta a nulla, se non ha la conoscenza della verità, ma resta un grandissimo comandante e soldato per tutto quello che ha fatto, soprattutto sul finale. Anche Reiner ho deciso di inserirlo tra i migliori personaggi in assoluto dal mio punto di vista all'interno della serie, soprattutto grazie a ciò che ha fatto e ciò che abbiamo scoperto all'interno di quest'ultima stagione. Reiner rappresenta proprio la controparte di Eren, a parte che poi è il corazzato, che secondo me è il gigante più figo in assoluto, ma questi sono dettagli. Ma poi è fondamentale per comprendere al meglio l'antinomia che vi è tra lui e Eren, è un personaggio davvero importantissimo all'interno della serie e dalla quarta stagione in poi, secondo me, merita assolutamente di essere qua in alto. E arriviamo all'ultimo personaggio che ho inserito in TRS, qui ecco, diciamo che è stata una scelta molto difficile. È un personaggio davvero badass, overpower, il più amato da tutti in assoluto, ma non è che per questo motivo, poiché tanto apprezzato dai fanboy e dalle fangirl, dovrei inserirlo per forza in una posizione più bassa per fare quello che cambia tutto. Secondo me anche lui, infatti, è un personaggio a dir poco perfetto, con una backstory davvero avvincente e interessante, che spiega poi il modo in cui si è diventato così tanto particolare, con il suo carattere che comunque è quello di uno stereotipo, di un personaggio appunto badass, come sappiamo, freddo, spietato, però al tempo stesso è tutto coerente all'interno della storia, è un personaggio che funziona e si adatta perfettamente al contesto che è stato creato da Isayama. Per me riesce sempre ad essere un'ottima presenza all'interno di questa serie e mi fa davvero piacere ogni volta vederlo. Passando in tier A parliamo di personaggi che comunque mi sono piaciuti molto, ma non sono semplicemente i miei preferiti. Partiamo da Armin, che devo dire la verità, è un personaggio che ho rivalutato nel tempo riguardando più volte la serie e effettivamente sì, mi piace comunque molto, è un personaggio fondamentale che ha avuto una maturazione incredibile, un'evoluzione incredibile, a partire dall'essere una pippa praticamente, che si metteva a paura di tutto, è diventato un personaggio davvero coraggioso, tant'è che c'è un episodio dedicato a Yi che appunto si intitola Il Coraggioso riferito a lui. Oltre ad essere un ottimo stratega, è un personaggio davvero rilevante all'interno della storia, soprattutto poi per l'evoluzione di altri personaggi che gli sono attorno, come Mikasa oppure Eren. Secondo me però può ancora dare tanto, soprattutto adesso che ho acquisito questa nuova forma e avendo visto che comunque è un personaggio che ha ancora molta umanità, a differenza magari di quello che sembra essere diventato Eren. Ho inserito anche Angie, non mi dilungherò, è un personaggio che all'inizio nemmeno questo mi faceva impazzire, ma ho imparato ad apprezzarla, è una tipa molto particolare, c'è da comprenderla sicuramente, però effettivamente nella serie ha veramente avuto dei momenti molto alti ed è riuscita spesso ad aiutare appunto i nostri protagonisti e non solo. Jeanne, a parte che è un personaggio che in italiano è stato doppiato da Flavia Quilone, lo stesso di Light Yagami di Death Note, e quindi già per questo, oh mio Dio, doppiaggio italiano fantastico. Devo dire che comunque è un personaggio che mi è sempre piaciuto, mi è sempre stato simpatico, mi piace molto la rivalità che aveva con Eren, il modo in cui si comportavano, perché in fondo in fondo comunque sono sempre stati amici, mi piace anche il modo in cui sembra essere diventato adesso più maturo, più responsabile, e vedo che anche lui ha ancora molta umanità un po' come Armin. È un personaggio secondario, quindi non è che abbia avuto chissà che spazio, però devo dire che comunque per essere secondario va benissimo. La stessa cosa vale per Sasha, a parte che nella quarta stagione ha avuto un character design spaziale meraviglioso da vedere, ma poi come comic relief ha sempre funzionato all'interno dell'opera, non stonava mai anche con le sue frasi un po' comiche e divertenti, anzi erano sempre apprezzabili, ed è un personaggio che rappresenta secondo me al meglio il lato spensierato, felice, allegro di Attack on Titan, che effettivamente è veramente marginale, e forse adesso nemmeno c'è più. In B ci sono personaggi che apprezzo, vi dirò pochissimo, Anni la trovo bedass e cazzuta, però è un personaggio che comunque non abbiamo ancora visto chissà quanto, alla fine è apparsa nella prima stagione, l'abbiamo vista in vari flashback, però Anni dobbiamo vederla un po' di più mi sa. Krista barra storia mi è piaciuta moltissimo nell'evoluzione che ha avuto appunto nell'arco che le è stato dedicato. A parte quello però effettivamente non è che un personaggio che sia apparso chissà quanto, ha avuto quello spazio e adesso sembra essere scomparsa. Di questa cosa mi dispiace, però comunque è un buon personaggio, mi è piaciuto, mi piace anche molto il character design, è molto pucciosa, molto carina e quindi bene. Devo davvero commentare questa posizione? Sarà pur sempre un personaggio terziario, ma non me ne frega un cazzo, lo adoro. Ecco qui sicuramente molti di voi sorceranno il naso, però ragazzi Mikasa, io non la vedo come uno dei migliori personaggi della serie. È sicuramente un buon personaggio, ma è comunque uno stereotipo che sì funziona un po' come Levi Levi all'interno della storia, però non lo so, Mikasa la vedo sempre troppo legata a Eren, cosa che sembra stia cambiando all'interno della serie. Mi piacerebbe vedere qualcosa in più oltre alle sue grandissime capacità e abilità fisiche. E sinceramente penso proprio che nelle prossime puntate vedremo qualcosa. Poi ragazzi, ci sono personaggi che comunque mi sono piaciuti, ma dai quali mi sarei aspettato qualcosa in più. D, ok, ci ho messo Bertold, lo so che a molti piace, però ragazzi, io e Bertold ci odiamo, ci odiamo semplicemente, sarà pure il gigante colossale, però ci odiamo. Nel gruppo costituito da Annie, Reiner e Bertold, devo dire che quest'ultimo è sempre stato quello che meno mi intrigava. Troppo, troppo classico secondo me come personaggio. Poi sì, anche buono alla fin fine, ok, però non è che essere buono è sinonimo di positività. Poi ragazzi, Ye e Yef sono personaggi che appaiono pochissimo, che non mi hanno mai detto nulla, che ci sono. Non è che li odi, parliamo sempre di ottimi personaggi all'interno di questa fantastica opera che è veramente un capolavoro, però lo inseriti più in basso perché preferivo gli altri. In questa classifica che ho fatto però mancavano alcuni personaggi che mi interessavano della quarta stagione e quindi vi posso mostrare quest'altra tier list che ho sempre fatto in live in cui ho aggiunto il voto a Peek, a Porco, a Gabi. Come vedete Gabi non l'ho inserita nella posizione più bassa perché secondo me è tutto contestualizzato e come bambina funziona il suo carattere, ci sta, è pur sempre una piccola Eren in miniatura, leggermente diversa e più antipatica, però ragazzi secondo me è un personaggio che è giusto che sia così ma comunque non la metto in alto perché sì, mi sta sul cazzo. Invece Falco e Pic li ho inseriti entrambi in una posizione piuttosto elevata. Ebbene, direi pure di fermarci qui, so che non ho argomentato tantissimo le posizioni però ragazzi erano tante non mi andava di fare un video lunghissimo non mi ero nemmeno preparato un copione quindi vi ho detto secondo me di primo impatto quali fossero i motivi per cui dei personaggi li preferissi a degli altri. Farvi sapere magari quali sono i vostri personaggi preferiti e anche i più odiati dell'attacco dei giganti. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto seguite i vari saluti e trovate sotto la descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.